Tutto pronto per l'inizio di questo final day qui al Tarno delle Tigri, come vedete 19 players, 2,69 quelli che hanno preso parte a questo torneo, un average di 283.158, il price full 147.950. Vediamo un attimo i tre tavoli, siamo appena partiti, anzi stanno partendo, vedete l'apertura, ora, tavolo 22, solo due giocatori per il momento, gli altri hanno deciso di non venire al torneo, quindi passiamo al tavolo 21 che invece è quasi tutto pieno, vedete manca una sola postazione, gli altri giocatori sono già tutti seduti, hanno aperto la propria busta, è il tavolo numero 17, stessa cosa, vedete, pronti, manca un solo giocatore, Luca Di Gaspero, come vedete, ritardatario, non vorrà venire magari a giocare, non lo so.